Vivi, odi, balla! Si apre il Festival d'Annunziano con questa serata Stramorgan, con Morgan protagonista, che peraltro è stato il titolo di un programma che abbiamo realizzato per Rai 2 che è andato in onda, quattro puntate e in questa serata Morgan ci porterà in un viaggio musicale con la Medit Orchestra, la Medit Orchestra, diretta dal maestro Angelo Valori e è sempre un piacere accompagnare Morgan nei suoi viaggi musicali perché ogni volta è una scoperta, una sorpresa, è un gioco bellissimo che lui sa fare da grande musicista a prendere delle grandi voci, dei grandi testi, i grandi che ci hanno preceduto, Modugno, Battiato, Battisti non ci sarà in scaletta stasera ma c'era nel programma televisivo, Umberto Bindi e lui riesce a regalarci la sua lettura e interpretazione da grande compositore musicista qual è.